186 LELIA Il Signore vuole da noi una penitenza per quest'anno santo. Sacrificio e riparazione dei peccati per l'anno santo e sofferenze per la conversione dei parenti. Roberto mio carissimo, domenica 22 ottobre 1950, ore 10 e 15. 187 Ho incominciato una cura di iniezioni a base di salicinato di odio, ma oltre ad essere dolorose sono debilitanti e mi producono un sacco di disturbi per cui ho deciso di sospenderle. Sarà quel che il Signore vorrà. Mi ha detto una signorina, anch'essa malata e sofferente da otto mesi, che forse il Signore vuole da noi una penitenza per quest'anno santo in riparazione di tutti i peccati che si fanno. Fratello Reinaldo è stato tanto gentile da telefonarmi le tue buone notizie ed io l'ho ringraziato proprio di cuore. Papà ha parlato pure con il reverendo fratello Valerio quando è ritornato da Torre e anche da lui ha avuto buone notizie. Ne si è ringraziato Dio. Adesso aspetto tutte le istruzioni per la tua prossima vestizione. Sono venuti a Roma quei cugini di Napoli ai quali abbiamo parlato di te e della tua nuova residenza. Abbiamo dato loro il tuo indirizzo, ma sarà meglio che non vengono a disturbarti. Come stai con la glandoletta? Sono sicura che l'aria di mare ti farà bene e così farai noviziato in perfetta salute. Leo ha un gran da fare per le sue associazioni, specialmente la FUCI. Francesco domani incomincerà la scuola e ti raccomando di pregare per la sua salute. Teresa ha già incominciato dal 14 e speriamo che quest'anno non abbia distrazioni. Papà sempre in ufficio, dove hanno cambiato il direttore generale. Il nuovo è un suo vecchio amico, speriamo bene. Ai parenti prossimi ho detto che se non si fanno il giubileo il Signore continua a far soffrire me. Al che? Se a Gilda ha detto subito, se è per questo lo faccio subito, chissà quando. Per la proclamazione del nuovo dogma, Roma sarà tutta illuminata. Anche le nostre finestre avranno le loro luci. Non so ancora di che genere, ma per la Madonna le vorrei belle assai. Di fronte al seguito c'è il Gran Collegio dell'Assunzione, che stanno preparando cose grandiose. Anche le aviole illuminate al neon. Da fra Raffaele abbiamo buone notizie. Ci ha scritto una lunghissima lettera invitando la vendemmia, ma non ci è potuto andare nessuno. Il 24 è San Raffaele e gli mandiamo un libro di filosofia da lui desiderato, di Maritain. Ti accludo l'Ire Mille per sante messe, che ascolterai per i nonni e zio Aldo. Di che cosa hai bisogno? Scrivi pure quando potrai. Per me è sempre una grande consolazione. Osegui al Signor Direttore, a te, figlio mio caro, tutte le più sante benedizioni, da mamma eppure da papà, e a messa da due ore. Abbiamo trovato forse la domestica dalle 8 alle 15, 9.000 al mese. Grazie.